Matteo Grazzini, assessore allo sport, benvenuto intanto al Pala Prato, c'è un calcio a 5 ancora vivo con tanta voglia di far bene. Sì, era il debutto personale, non avevo ancora visto nessuna partita, non ero riuscito a trovare il momento adatto, credo di averlo trovato davvero stavolta perché ho visto una buona partita, un bellissimo gol, una qualificazione a triangolare, quindi meglio di così non poteva andare. C'era anche una bella presenza di pubblico, c'è ancora voglia di bel calcio a 5 a Prato? Sì, c'è voglia di sport in generale, di palazzetto pieno perché ce n'è bisogno e calcio a 5 è uno sport che richiama, fa divertire, quando le cose poi vanno bene così c'è entusiasmo, tamburi finalmente, si è sentito un po' di sottofondo da tifo vero, bene così e non diciamo niente sul futuro prossimo. Il problema è che ora parte la scaramanzia, l'assessore si troverà sabato una limusine sotto casa per portarlo qua di nuovo? Vabbè, se c'è la limusine è più facile giustificarmi con la moglie, quindi va bene, aspetta allora. Vabbè, se c'è la limusine.